Ci troviamo a Napoli, in via Roma, nelle vie dello shopping. Qui la crisi sembra davvero non esserci mai stata. Vediamo come vanno gli acquisti. Si ha comprato qualcosa? Gli acquisti? Che dici? Sì, sì, non c'è male. Come sono i prezzi? Non c'è male. Ha comprato già qualcosa? No. Come mai? Non ho bisogno di niente. Come vanno gli acquisti? Sì, ma bene. Niente di particolare, però bene. I prezzi come li ho trovati? Alti, come sempre. Non cambia niente. Ha comprato qualcosina? Giusto gli ultimi regali che si devono fare? I prezzi come li ho trovati? I prezzi li ho trovati alquanto modici, perché per la zona basta spostarsi un pochettino, salgono anche i prezzi naturalmente. Bisogna accontentarsi. Sì, stiamo venendo da fuori, ma adesso stiamo vedendo un po' i negozi. Come vanno gli acquisti? Eh, bene, bene. Ma aspettiamo sabato di mettere i saldi. I prezzi come li hai trovati oggi? I prezzi come li hai trovati oggi? Più cari degli anni scorsi, sicuramente. Più cari più cari. I po' vengo da Firenze, abitolamo e vedo la differenza rispetto all'anno scorsi, qua sono più cari. E a quelli che hanno niente da dire, del tempo ne rimano. Ma la televisione ha detto che è il nuovo anno. Grazie. 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 Grazie.